Il PD non digerisce il nome, il PD diviso al suo interno punta i piedi, le opposizioni sognano il blitz. Il voto è fissato per oggi, scelta civica cerca la mediazione, già in mattinata propone di rinviare il dossier. La proposta raccoglie subito consensi. L'ipotesi del rinvio della votazione di oggi del vicepresidente della Camera può essere utile a rassenerare il clima e anche a costruire delle condizioni perché il Parlamento poi possa lavorare con maggior serenità su temi importanti che abbiamo all'ordine del giorno in questa settimana. Mi sembra che inasprire su queste questioni non è mai utile, non è utile nemmeno al PDL. I democratici del resto avevano già deciso di votare scheda bianca, impossibile mettere la faccia sull'elezione di una delle custodi più fedeli dell'ortodossia berlusconiana, anche ieri davanti alla villa di Arcore per manifestare contro i giudici in difesa del leader. Ma il PDL non ci sta ad accettare vete anche perché da solo, complici di detenzione interna, difficilmente riuscirebbe a portare a casa l'elezione. Da qui la forzatura. Bisogna anche contribuire all'elezione perché siccome è un'elezione, non è una nomina. Dicevi ispetta, votiamo. Se poi col voto segreto si fanno giochetti strani e si crea uno strappo, mi auguro che non ci sia perché sarebbe una cosa molto spiace. Senza i voti PD il rischio non troppo remoto è di essere impallinati dalle opposizioni. I Cinque Stelle infatti presentano una loro candidata e se il partito di Vendola scegliesse di convergere il blitz sarebbe assicurato. Di qui la proposta di Brunetta di bloccare candidature alternative. Abbiamo una capigruppo del 2013 per porre alla presidente Boldrini il problema istituzionale. Se quando c'è da rinnovare una carica perché chi è il partito che l'aveva ha collocato il proprio rappresentante, in questo caso al governo, si è consentito agli altri partiti e alle altre forze del Parlamento proporre candidature alternative che sarebbero istituzionalmente scorrette. Siamo d'accordo con il PD, dice, ma i Democrat non confermano questa ipotesi. Piuttosto complicato impedire a qualcuno di candidarsi. Tutta la partita si sposta appunto nella riunione dei capigruppo in corso da circa mezz'ora. E quella la sede in cui si deciderà se rinvio dovrà essere. Riunione che si apre con il pollice verso delle opposizioni. Se le 5 Stelle storcono il naso, per loro infatti la difficoltà della maggioranza è un'occasione da cogliere. Ci spera Di Maio, vicepresidente della Camera Grillino. Oggi nulla è scontato, tutto si giocherà all'ultima ora.